Salve amici ben ritrovati sul canale oggi protagonista di questo video è quello che io ho ribattezzato l'accessorio fantastico di Parkside altro non è che questa piccola appendice o questo piccolo accessorio che si va a montare sulle batterie della linea X20 V Team della Parkside e che consente di avere da un lato una pratica luce a led che dura tantissimo anche perché l'assorbimento del led è una cosa talmente esigua che già con una batteria da 2 ampere ne ha da vendere e anche la possibilità di avere due comodissime prese usb prese usb che sono perfette sia per alimentare accessori tipo nel mio caso ventilatori alimentare e ricaricare un tablet o un cellulare o qualsiasi altra cosa che con un connettore usb possa essere ricaricato beh in questo caso a me mi ha salvato in tantissime situazioni devo dire tant'è che è diventato praticamente il mio prodotto Parkside preferito me lo porto dovunque unitamente alla batteria e un caricabatterie per caricare per appunto questo tipo di batterie X20 V Team e praticamente è diventato il mio compagno più fedele ora visto che comunque mantengo la possibilità di utilizzare una batteria da 18-20 V circa mi interesserebbe utilizzare questo tipo di apparato anche per ricaricare qualcosa di più importante e quindi in vista di fare delle modifiche proprio sull'accessorio fantastico voglio andare a smontarlo voglio smontarlo, voglio vedere un attimino come è fatto dentro e se ci sono possibilità di ampliare quelle che sono le sue funzionalità e potenzialità attuali quindi lo vado a smontare dalla basetta, dalla batteria e cerco di capire come smontarlo in effetti ci sono soltanto 3 viti, 1, 2, 3 sotto l'adesivo non c'è nulla quindi non tocca rimuovere l'adesivo per andarci a cercare come tante volte accade, una vite nascosta e mi devo armare semplicemente di un cacciavite a stella cacciavite a stella che non lo prendete troppo piccolo perché le viti sono di dimensione media non lo prendete nemmeno troppo grande perché poi insomma non vi entra qua nella fessurina prendetelo di una misura intermedia e avrete senz'altro la possibilità di aprirlo agevolmente in questo caso io già ho mollato le 3 viti, non vi voglio mentire e mi sono reso il compito abbastanza semplice quindi andiamo a mollarle completamente non c'è bisogno di rimuovere completamente perché comunque la filettatura della vite resta nella mezza scocca che si va a estrarre e a questo punto semplicemente si esercita una pressione, una trazione ad aprire queste due scocche che compongono l'accessorio fantastico vedete e già si apre nel mezzo ok? è facilissimo voilà da una parte c'è questa scocca dove non ci sono componenti elettrici non c'è nulla non c'è la minima resistenza scusate nell'aprire ecco una vite mi è già uscita dalla sede la rimetto a posto e qui dall'altra parte mi rimane l'altra mezza scocca con la sua bella schedina elettrica il gancio per la cintura o per qualsiasi altro posto dove volete agganciare e il pulsante ecco l'unica attenzione che dovete avere quando andate a smontare il tutto è di non andare a perdere, di non andare a tirare la scheda perché tirando la scheda vi andate a tirare anche la base sulla quale è alloggiata la molla respingente del pulsantino di accensione ok? se andate a estrarre in maniera poco attenta questa schedina può essere che vi spari via la molla e poi insomma recuperarla per la stanza o per dove siete potrebbe essere anche un problema in questo caso io estraggo leggermente e ve la faccio vedere ci provo? si, si potrebbe fare ma ecco, vedete? già vado a a sfalsare un pochino tutto e la molla tende a proiettare il pulsantino lontano quindi non volendo andare poi a cercarmelo lo torno a inserire perché non la vado a tirar fuori? perché comunque ci sono dei cavetti dei fili elettrici che vanno direttamente a led e non vorrei senza nessun motivo andare a rischiare di di danneggiarli in ogni caso ciò che mi preme è proprio sulla scocca e qua no è dall'altra parte è su questa mezza scocca e cosa mi interessa capire? mi interessa capire un attimo che tipo di spazi posso gestirmi per raggiungere un connettore in più a questo accessorio fantastico per farlo diventare chiaramente un accessorio perfetto come fare a capire gli spazi? allora visto che ecco questa vite oramai è ribelle la vado ad avvitare un pochino di più visto che stavo dicendo la gestione degli spazi è intendibile nel momento in cui tutte le viti sono avvitate fino in fondo io qui mi infilo completamente la vite che mi interessa e vado a cercare di capire una volta che entra qua dentro quanto spazio mi rimane qui per aggiungersi un connettore ora penso di aggiungersi un connettore con un positivo o un negativo che poi vado a collegare a queste due alettine e per fare ciò devo capire un attimino che spazi di lavoro ho vedete ponendo così la vite praticamente idealmente so che tutta questa parte dove c'è il dito dove c'è il mio dito indice è libera non ci sono connettori non ci sono viti non c'è nulla posso perforare e realizzare l'alloggiamento per un connettore che poi andrà a tirarsi un paio di fili proprio per agganciarsi al positivo e al negativo dell'accessorio fantastico che una volta collegato potrà andare a ciucciare elettricità anche direttamente alla batteria questo connettore mi consentirà di avere un'uscita non solo a 5 volt come di normale si dispone per usb mi permetterà di avere un'uscita a voltaggio pieno della batteria inserita quindi 18 volte e mezzo 19 insomma quasi 20 che allegramente ho scoperto essere il voltaggio necessario a far funzionare parecchi computer portatili quindi quando ho la necessità di non consumare la batteria portatile del mio pc o quando la batteria del mio portatile è oramai allo stremo posso comunque collegarci questo tipo di batteria a conti fatti una 2 amper mi garantisce più o meno sul portatile un'autonomia di circa di quasi un'ora quindi sta bene deciderò poi in seguito se dotarmi anche di qualche batteria più capiente o meno insomma in base a quelli che sono i miei usi ok bene fatta questa considerazione ora posso andare a rimontare il tutto in vista in attesa che mi arrivino comunque i componenti per fare questa pratica e utile modifica che poi chiaramente vi mostrerò in un video successivo ok amici con questo è tutto un saluto e alla prossima ciao